Presidente, con oggi iniziano i festeggiamenti del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Dall'inizio dell'anno il Consiglio regionale ha sempre cantato l'inno nazionale, si è ripetuto oggi anche alla presenza del Presidente Polverini. Sì, abbiamo stabilito che per l'anno 2011, in occasione del 150esimo anniversario, ci sarà ad ogni inizio seduta l'inno nazionale di Mameli. E' chiaro che nel Lazio, a differenza della Lombardia, nessuno si è alzato, nessuno è andato via, segno di un grande attaccamento a questa grande nazione, questa grande Italia che ha dimostrato negli anni la capacità di affermarsi ed ha certificato durante questi 150 anni una grande voglia di crescita. Quindi oggi abbiamo reso omaggio a questa grande festività, domani parteciperemo alla festa con il Presidente della Repubblica per rafforzare sempre di più questo legame tra le istituzioni, tra le istituzioni e il territorio, tra le istituzioni e i cittadini, tra le istituzioni e le imprese. Questo deve essere il messaggio che le istituzioni hanno il dovere di trasmettere all'esterno. Ecco Presidente, ancora una volta la Lega ha dimostrato comunque di non avere di buon occhio l'inno nazionale e il gesto di oggi è il sintomo che comunque non c'è accordo da questo punto di vista. Come giudica questo atteggiamento? Un atteggiamento irresponsabile, poco riguardoso nei confronti dei tanti italiani che si sono impegnati 150 anni fa per riunire questa nazione e soprattutto sono irresponsabili perché di fronte ad un momento così importante, alto e nobile, chi rappresenta l'istituzione dovrebbe avere il dovere, anzi oserei dire deve avere il dovere di rappresentare l'unità intera della nostra nazione. Presidente, i festeggiamenti sono iniziati anche con un tour nelle scuole, come procede? Procede bene, abbiamo fatto già il primo incontro a Latina, poi faremo la settimana prossima a Rieti, poi a Viterbo, poi a Roma, a Frosinone. Il messaggio nelle scuole è diverso, il messaggio nelle scuole è un messaggio di attenzione nei confronti dei giovani, dei ragazzi che conoscono ancora poco dei sacrifici che hanno fatto i nostri bisnonni, i nostri amici italiani. Quindi bisogna investire sulla cultura, bisogna investire soprattutto sulle giovani generazioni per riaffermare sempre di più quel principio serio di grande unità, di grande attaccamento ai nostri valori, alla nostra lingua, alla nostra cultura.